Bo! Bo! Bo sei con noi! Ciao amici! Lui è Daisy e io sono Bo, il mago! Siete pronti a partire? Bo sei con noi! Bo sei con noi! Bo sei con noi! Tutti insieme andiamo dai! Il movimento è via, mi date l'energia Per poi salire su! La bo potenza è qui, si è bella che così Bo! Bo! Bo sei con noi! Se c'è da fare sai, ti aiuteremo noi Muovitevi e anche io lo farò Non smetteremo mai, ci muoveremo e poi La bo potenza riceverò! Bo sei con noi! Bo sei con noi! Bo sei con noi! Tutti insieme andiamo dai! Massima Bo potenza! Bo è lo strambo acconciatore Amici miei, che bello che siete qui! Guardate! Qualcuno ha acconciato l'uccellino azzurro Facendogli una strana pettinatura E date un'occhiata lì! Amma... Desi! Sei stato pulito e spazzolato E adesso sei lindo e pinto! Sei stato acconciato anche tu! Ah! Qualcuno lo ha fatto mentre dormivo! A quanto pare c'è qualcuno che se ne va in giro ad acconciare tutti! Ma chi? C'è soltanto una persona che può saperlo! Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire! Volete aiutarmi? Vi va! Grazie mille, amici miei! Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci! Dobbiamo entrare nella nostra bozzona! La bozzona! Coraggio, amici miei! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere! Spostate quel giocatore e tutto il resto! Così entraremo in azione presto presto! Create la vostra bozzona! Ci siamo quasi! Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago! Mettetevi al centro della vostra bozzona! Puntate il dito in aria! Così! Adesso ruotatelo per benino! Continuate a ruotarlo! Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza a brillare fate! Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ora con l'altra mano! Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima boopotenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Desi e Boo! Che cosa mi dite? A dire il vero, mago! Pensavamo che fossi tu a dirci chi è stato a... Non ditemelo, non ditemelo! Qualcuno se ne è andato in giro ad acconciare! Ma come fa a saperlo? Il mago sa tutto! Chi potrebbe essere stato? Fatemi vedere! Sì, lo immaginavo! È stato lo strambo acconciatore! Lo strambo acconciatore che è? Lo strambo acconciatore! Tutti i cuccioli in modi strani acconcia! Ogni cucciolo che squittisce, miagola, abbaia o nitrisce! Cuccioli che camminano, volano, nuotano o strisciano! Non si fermerà finché acconciati non li avrà! Vuoi dire che lo strambo acconciatore acconcerà tutti i cuccioli che esistono al mondo? Temo proprio di Sibu! Ma non tutti vogliono che i propri cuccioli siano acconciati! O i loro draghetti verdi! C'è soltanto una cosa da fare! Dobbiamo trovare quello strambo acconciatore e impedirgli di acconciare tutti i cuccioli di animali che esistono al mondo! Per trovare lo strambo acconciatore dovete entrare nella camera delle porte! La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più! Dietro la porta numero tre troverete ciò che cercate! Ecco, guardate! Lo strambo acconciatore! Trovate quelle tre porte e troverete lo strambo acconciatore! Grazie mille, mago! È stato un piacere! Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione! Quindi bisogna trovare tre porte! Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto! Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre, poi correte con me! Uno... Due... Tre... Via! La camera delle porte! Coraggio amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti! Ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare... O camminare! Ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurando la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massimo potenza! Massimo potenza! Forza amici, correte! Correte! E' una chiamatura stramba! E' chiusa! Ci occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come una giraffa! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo... Sulle braccia tendiamo! E... Saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Forza! Oltrepassiamo la porta dei Jackie! Su, entriamo! Un negozio di animali! Wow! Guardate questi Jackie dal buffo aspetto, amici miei! Scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui! E guardate questi! Altri cuccioli ben acconciati! Per caso vedete la nostra prossima porta? Guarda! Eccola lì! La porta è alla fine di questo negozio! Credo proprio che sarà super facile! Ehi! Spostati, pinguino! Sembra il proprietario del negozio di animali! Perché non vuole farci passare? Benvenuti nel negozio di animali del pinguino! Lo strambo acconciatore oggi qui è stato e tutti i cuccioli in modo strambo ha acconciato tranne i pappagallini che sono riusciti a fuggire quando la loro gabbia è riuscita ad aprire! Il proprietario ha bisogno che riportiate i pappagallini giù con delle magiche piume di tucano per volare sempre più su! Volare sempre più su con magiche piume di tucano per riportare giù i pappagallini? Ma come possiamo fare? Per riuscire a volare con le piume magiche di tucano dovete imitare un animale! Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per volare con le magiche piume di tucano e riportare giù i pappagallini? Un gatto che fa le fusa? Un pipistrello che batte le ali? Un elefante che marcia? Un pipistrello che batte le ali? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Ora per volare in alto con le piume magiche di tucano dobbiamo battere, battere, battere le ali come un pipistrello! Guardate me! Daisy è un perfetto pipistrello che batte le ali! Amici miei, battiamo le ali anche noi! Siete nella vostra bozzona? Sì! Allora conto fino a tre! Poi fate come me! Uno, due, tre... Via! Muovete le braccia, amici miei! Spiegate bene le vostre ali! Battetele in su e in giù! Così volerete sempre più! Se forte forte le vostre ali batterete i pappagallini al loro posto con me riporterete! Oh oh! Mi serve altra energia! Battete le ali con me, amici! Quando insieme a me vi muovete energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando, amici! La vostra energia sto sentendo! Massima po' potenza! Pipistrellini, battete le ali! Sì! Battete ancora un altro po'! Manca un pappagallino! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Abbiamo riportato tutti i pappagallini nella loro gabbia! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare poi! Andiamo, amici! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Un cane! Con una pettinatura davvero buffa! Noi sappiamo chi è stato ad acconciarlo, vero? Lo strambo acconciatore! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Come una torre! In punta di piedi... Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E... Saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Forza! Oltrepassiamo la porta del cane con la buffa acconciatura! Oh! Che bel parco! Ma non vedo nessun... Forza, Daisy! Non possiamo giocare con i cagnolini! Dobbiamo entrare in azione! Riuscite a vedere la nostra ultima porta? Guarda! Eccola lì! Proprio dall'altra parte del parco! Forza, amici miei! Credo proprio che sarà super facile! Ehi! Spostati per favore, babbuina! Perché questa babbuina non vuole farci passare? Benvenuti nel parco della babbuina Dog Sitter! Adesso la babbuina voi dovete aiutare! Vedete? Lo strambo acconciatore i suoi cani ha voluto acconciare! E come rannocchie pazze non fanno altro che saltellare! Fiocchi e coccarde di dosso si vogliono scrollare! I cagnolini acchiapperete! Sperete se veloci correrete in avanti e poi indietro! Correre veloci in avanti e poi indietro per acchiappare i cani! Davvero uno strambo modo di muoversi! Se volete correre veloci in avanti e poi indietro per acchiappare i cani! Dovete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei! Potete aiutarci a scegliere un animale! Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per correre veloci avanti e indietro e acchiappare i cani? Un pinguino che ondeggia? Un piccolo insetto che cammina? Una volpe che corre veloce? Una volpe che corre veloce! Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per sfrecciare veloci avanti e indietro e acchiappare i cani, dobbiamo correre! Correre! Correre come una volpe! Guardate come corro veloce! Daisy è una perfetta volpe che corre veloce! Diventiamo volpi che corrono veloci anche noi! Siete nella vostra boh-zona? Super, super fantastico! Ora conto fino a tre! Poi fate come me! Uno, due, tre... Correte! Fate passi veloci! Accovacciatevi giù! Girate di qua e poi di là! Fermatevi e ripartite! Abbiamo preso un cane! Ottimo lavoro, amici miei! Continuate a correre! Correte, amici miei! Con veloci passi da volpe! Per prendere i cagnolini, correte con me! Oh-oh! Ho poca energia! Correte con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza, brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Massimo boh-potenza! Correte, amici miei! Un altro cane prenderemo e alla nostra porta arriveremo! Continuate a correre! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Abbiamo acchiappato tutti i cani dalla buffa acconciatura! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Ah-oh! Andiamo, amici! Ballate con me! Davvero un bellissimo ballo, amici! Oh! Che tenero barboncino! Sembra che voglia essere acconciato da te e Daisy! Sì! Così? Ecco! Com'è carino così! L'acconciatura si è subito disfatta! Deve essere acconciato di nuovo! Wow! Questo deve essere un barboncino acconciami per sempre! Puoi acconciarlo e riacconciarlo, ma avrà sempre bisogno di un'acconciatura nuova! È molto raro! Dovresti portarlo con te, Daisy! Non si sa mai! Potrebbe tornarci utile più tardi, sai! La terza porta! Lo strambo acconciatore! Non è chiusa! Coraggio, amici miei! È arrivata l'ora di impedire allo strambo acconciatore di acconciare i cuccioli di tutto il mondo! Wow! Guardate quanti attrezzi per acconciare! Amici miei, indovinate un po' chi vive qui? Lo strambo acconciatore! A lui sì che piace acconciare! Se solo ci fosse qualcosa che potesse acconciare per sempre in modo tale da non dover acconciare i cuccioli degli altri! Questo! Questo! Scusa, Daisy! Ora non posso acconciare il tuo barboncino acconciami per sempre! Sono occupata a pensare a qualcosa che... Aspetta un momento! Il barboncino acconciami per sempre! Lo strambo acconciatore potrà acconciarlo ancora e ancora finché ne avrà voglia! Bravo, draghetto Daisy! Sei un vero genio! Datti da fare! Amici miei, è stata a guardare! Ehi, strambo acconciatore! Guarda che cosa ho qui! E lo strambo acconciatore acconciò per sempre felice e contento! L'uccellino azzurro sembra tornato quello di sempre! Super fantastico! Desi! Oh no! Qui abbiamo un altro strambo acconciatore! Forse è meglio dire che abbiamo uno strambo draghetto! Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici! Siamo riusciti ad impedire allo strambo acconciatore di acconciare tutti i cuccioli del mondo! Anche grazie a voi! Siete ancora nella vostra bozzona? Allora facciamo un altro ballo di bo! Il ballo di bo più sfrenato di tutti! Ci siamo riusciti? Anche grazie a voi! È ora del ballo di bo! Ballate con noi! Forza! Vediamo che ballo sapete fare poi! Coraggio amici miei! E ricordate! Continuate a muovervi e sempre in azione! Per il ballo di bo? Per il ballo di bollare! Di Ballo di bollare! Per il ballo di bollare! Grazie a tutti.